Da ieri il dirigente superiore della Polizia di Stato, Carlo Solimine, è il nuovo questore della provincia di Pescara. Nel corso della cerimonia di insediamento, accolto da dirigenti funzionari, una rappresentanza dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato e del personale, il questore ha voluto subito rendere omaggio ai caduti della Polizia di Stato con la deposizione di una corona di alloro al sacrario situato nel centro polifunzionale Fanti di Via Pesara, dove ha sede proprio la questura di Pescara. Questa mattina il neo questore si è presentato alla stampa ripercorrendo le tappe più significative della sua carriera. 61 anni, originario di Napoli, Solimine ha lavorato nella divisione investigativa di Roma come primo dirigente dei Stato e Vertici della Polizia Postale e delle Comunicazioni Capitolina. La mia sfida professionale è effettivamente la prima in una questura, ma diciamo che ho maturato negli anni non soltanto una dimensione che ha riguardato il contrasto della criminalità virtuale, ma anche quella reale. Io provengo dalla squadra mobile della città partenopea, dove quando ero ragazzo o quando ero molto più giovane ho operato in quella città, per cui sono convinto di poter mettere a disposizione di questa città così importante, di questa comunità così importante, la mia esperienza lavorativa. Il fenomeno della droga colpisce soprattutto le periferie della città e al corrente di alcune zone molto particolari e sensibili. Senza fare differenze di fondo il fenomeno, diciamo, degli stupefacenti è un fenomeno che come voi sapete riguarda comunità di carattere nazionale e internazionale. Per tale motivo è inutile fare adesso differenze tra quartieri o meno. Io credo che sarebbe anche riduttivo da un punto di vista investigativo voler ridurre un contrasto o una prevenzione o un'analisi nei confronti soltanto di alcuni quartieri. Io credo che va attenzionato il fenomeno nel suo complesso. Una volta attenzionato il fenomeno bisognerà essere più incisivi e quindi andare a colpire dove ci rendiamo conto che è significativamente più importante. Ma diciamo che sono molto contento e soddisfatto di essere arrivato qui. Per cui ho cercato in tutti i modi di percorrere i tempi. Per cui ho studiato in questa settimana, in questo paio di settimane, prima di arrivare qui. Ho una buona squadra sulla quale io conto molto e grazie a loro sto cercando di anticipare tutti i miei elementi conoscitivi. È inutile adesso andare a ricordare quelle che sono i punti salienti che mi sono segnato sul mio taccuino, questa volta non digitale, un taccuino cartaceo. Ma diciamo che le idee le cominciamo a avere chiare e sono sicuro che grazie al contributo di una squadra importante come quella della Questura di Pescara riusciremo a soddisfare le esigenze di sicurezza di questa comunità.